Nel video di oggi vorrei parlarvi di significato. E in particolare vorrei porvi una domanda a tutti voi che state guardando questo video, ovvero qual è il significato dietro quello che state facendo? Dietro il vostro lavoro, ma anche dietro al modo in cui portate avanti la vostra vita? Vi chiedo questa cosa perché la verità è che tante persone non sanno rispondere a questa domanda. Quando gli chiedi perché stanno facendo ciò che stanno facendo, rispondono in modo molto, molto superficiale. Quindi tante persone quando gli chiedo il significato di quello che fanno, rispondono ad esempio che è per i soldi, che è per fare la bella vita, che poi è quasi la stessa cosa, rispondono che è per campare. Il problema però è che se nella vita non siamo mossi da un senso più profondo, che ci spinga a fare le cose, allora la verità è che dovremmo sempre reinventarci la nostra motivazione. Quando non riusciamo a dare un significato profondo al nostro lavoro, alle nostre giornate, allora iniziano quei momenti in cui non riusciamo ad alzarsi dal letto, facciamo una fatica tremenda a metterci a lavorare, ci distraiamo continuamente, e sembra che la nostra motivazione dobbiamo sforzarci ogni volta per ritirare la galla. Quello che tante persone non capiscono è che per far funzionare un progetto, un proprio progetto personale, un progetto imprenditoriale, ci vuole tanto tempo, serve un periodo di tempo molto lungo. Non si parla di mesi, si parla di anni. E per riuscire a portare avanti un progetto così a lungo non ci serve un obiettivo. Quello che ci serve veramente è un significato. Quando riusciamo a trovare un significato che va al di là dell'output diretto del nostro lavoro, quindi che va al di là dei soldi, che va al di là del rispetto degli altri, che va al di là di queste cose, ma che ci dà un motivo più profondo per fare quello che facciamo, allora non dovremo mai più preoccuparci della motivazione e non dovremo nemmeno mai più preoccuparci veramente dei soldi, perché non sarà quella la cosa che ci importerà di più. E quindi in questo video voglio proprio parlarvi di come si trova un significato in quello che facciamo. Parleremo di visione, parleremo della vostra missione, parleremo della vostra filosofia con cui portate avanti le cose. E quindi spero che quello che vedremo adesso vi aiuti a trovare il vostro significato, la vostra vera benzina interiore che vi farà portare avanti e che vi farà magari anche scegliere di intraprendere un determinato percorso. E come prima cosa per parlarvi di significato voglio parlarvi di creazione del mondo. Se ci fate caso, infatti, tutti i più grandi imprenditori al mondo, ma anche i più grandi artisti al mondo, i più grandi scrittori al mondo, non hanno semplicemente creato un'azienda, scritto un libro, scritto una canzone. Hanno creato dei veri e propri mondi, all'interno dei quali le persone desideravano abitare. Anche le persone carismatiche che abbiamo intorno a noi spesso riescono a dar vita a dei veri e propri mondi in cui noi desideriamo stare. Sono mondi che sono fatti da nuove regole, sono fatti da nuovi punti di vista, nuove prospettive da cui osservare le cose. E poi, in certi casi, anche proprio nuovi modi di affrontare la vita nel caso delle aziende. Guardate i personaggi come ad esempio Elon Musk. Elon Musk può piacere, può non piacere, è un personaggio sicuramente molto controverso. Ma se c'è una cosa che non possiamo negare di Elon Musk è che ha creato un suo mondo, ha cambiato le regole, ha fatto cose che sembravano impossibili e questa sua visione del mondo ha trascinato vicino a sé una marea di persone che hanno deciso di lavorare per lui o di seguirlo, di elogiarlo e di idolatrarlo. Tanto che oggi è forse una delle persone più famose al mondo. Ma la stessa cosa la fanno anche più in piccolo. Anche banalmente i creator di cui ci affizioniamo hanno una loro visione personale delle cose talmente forte che ci trascinano all'interno del loro mondo. E ci fanno vivere il mondo attraverso i loro occhi, la loro visione e il loro modo di vedere le cose. E quello che fanno i grandi imprenditori è proprio questo. Vedono nel mondo qualcosa che non funziona e allora decidono di cambiarla. Detto in altre parole, i grandi imprenditori modificano la realtà. E per riuscire a creare questo mondo bisogna partire da tre cose. Una visione chiara serve una missione e poi serve una filosofia. E in un certo senso credo che la cosa da invidiare realmente a questi grandi imprenditori non siano i loro soldi, non siano i loro possedimenti, ma è il senso di significato che sono riusciti a trovare. In quanto esseri umani noi passiamo la nostra vita alla ricerca di qualcosa che ci dia un significato. Invece la maggior parte degli imprenditori anziché partire da questi tre punti parte dal cercare di creare un prodotto che le persone possano comprare in modo da farci soldi. E quindi magari lavorano a un prodotto che non gli interessa, in un mercato che non gli interessa, aiutando a risolvere problemi che non gli interessa veramente risolvere. E nel mondo di oggi, in cui tante persone si buttano online a caso, alla ricerca dell'opportunità, alla ricerca di qualcosa che magicamente gli farà cadere i soldi dal cielo, è una condizione che vedo sempre più di frequente. Persone che lavorano dietro a progetti da cui non vengono realmente gratificati e passano poi il tempo a cercare dei libri, a cercare dei mentori, a cercare qualcuno che abbia come unico obiettivo quello di motivarli a continuare, a spingere verso quella strada. Questi punti qua sostanzialmente sono il DNA da cui deve partire il vostro progetto, deve partire la vostra attività, quello che deciderete di fare nella vita. Quindi, ora che abbiamo capito perché dovremmo lavorare su questo aspetto della nostra vita, ora vediamo come svilupparlo, come trovare la vostra visione, come sviluppare la vostra missione e come definire la vostra filosofia. E partiamo come prima cosa dalla visione. La vostra visione è il come vi immaginate il mondo. Qual è la vostra visione idealistica del mondo? Definisce un futuro a lungo termine che da qua a 10-20 anni come vorreste veder cambiato il mondo? Il mercato in cui lavorate? Qual è la visione sui prodotti che verranno venduti? Insomma, è come vi immaginate che dovrebbe essere il mondo se la vostra visione si realizzasse. E quando pensate alla visione, il mio consiglio è quello di pensare in grande. Perché la vostra visione definisce il motivo per cui siete vivi, cosa intendete realizzare nel tempo che avete a disposizione su questa terra. Quindi pensate in grande e non preoccupatevi in questa fase del come. Al come ci penseremo dopo. Ora pensate solo al cambiamento che vorreste apportare. E per riuscire a trovare questo cambiamento quello che dovreste fare è partire dai problemi. Qual è il problema che vedete nel mondo? Perché vi sentite obbligati a risolverlo? E come cambierà la vita di chi sta vivendo questo problema se voi riuscirete a risolverlo? Tutta la vostra visione deve partire dal provare a creare un cambiamento. E il cambiamento parte dal provare a risolvere dei problemi che vediamo e che vorremmo che non ci fossero più. Poi sotto questo video vi lascerò un documento che vi invito a compilare in cui vi lascerò lo spazio per provare a rispondere a tutte queste domande e a definire cos'è che veramente dà significato o potrebbe dare significato alla vostra vita. Uber, ad esempio, è partito da un semplice problema. Ha visto che i trasporti non erano affidabili, semplici e non erano disponibili da tutte le parti. E così, a partire da questo problema, ha sviluppato la sua visione che era quella di creare trasporti affidabili ovunque, in qualunque parte del mondo e disponibili a tutti. Amazon ha visto che riuscire a scoprire, acquistare e ricevere rapidamente dei prodotti è un processo lento e faticoso. E quindi, la loro visione è stata quella di dar vita a un'azienda incentrata completamente sul cliente in cui il cliente avesse modo di trovare qualunque prodotto desiderasse e ottenerlo a casa sua nel più breve tempo possibile. Questa è stata la visione che ha mosso Amazon. Ma tutti sono partiti da dei problemi che hanno visto nel mondo. E per riuscire a fare questo lavoro al meglio, la domanda più potente che potete porvi è perché? Perché esistete? Perché esiste la vostra attività? Perché vi alzate dal letto la mattina? Queste sono le prime domande che dovreste porvi. E anche in questo momento la mia visione, ciò che dà significato al mio lavoro e alla mia vita parte da un problema ovvero l'aver visto che il mondo del lavoro è cambiato completamente eppure ci sono ancora tantissime persone bloccate all'interno di un lavoro che non li gratifica e che non dà veramente valore al proprio tempo. Mentre viviamo in un'epoca in cui il web ha dato a tutti noi tantissime possibilità di crearci un lavoro che ci gratifichi, di dar valore alle nostre giornate, dar valore al nostro tempo e lavorare dietro qualcosa che realmente ci appassiona. E quello che penso è che anche il mondo del lavoro tra un po' di tempo non prevederà più che qualcuno si alzi e sia otto ore tutti i giorni seduto alla scrivania. E questo perché la tecnologia permetterà e permette già adesso di accelerare molto di più i processi che prima dovevano fare in modo super metodico le persone. E da qua è nata la mia visione di aiutare le persone a costruirsi la propria autonomia online. E a questo riguardo tra l'altro iscrivetevi alla mia newsletter e vi farò sapere anche quando riapriremo le porte del mastermind di Copymastery all'interno del quale aiutiamo le persone a scoprire qual è la loro visione e poi cerchiamo di dargli gli strumenti per riuscire a costruirla. Comunque una volta definita la nostra visione a questo punto passiamo alla nostra missione ovvero come cercheremo di costruire questo mondo di dar vita alla nostra visione. La vostra missione in altre parole è il cosa volete fare di preciso e deve avere sostanzialmente due attributi. deve essere chiara e deve ispirare l'azione. Quindi ad esempio la missione di Google è quella di organizzare le informazioni del mondo e renderle accessibili a tutti. Oppure la missione di Microsoft è avere un computer su ogni scrivania in ogni casa. Comunque poi vi lascio in descrizione gli esempi di queste grosse aziende di qual è la loro visione qual è la loro missione e qual è la loro filosofia con cui portano avanti le cose e vi sarà di enorme aiuto. Il punto comunque che dovete capire è che la visione è il vostro perché la vostra missione è il cosa cosa deciderete di fare per realizzare la vostra visione per portare il cambiamento che vorreste portare sulla terra. Quindi ad esempio a partire dalla mia visione del mondo del lavoro e di come sta cambiando possono nascere diverse missioni. Una missione può essere quella di cui anche mi occupo che è la formazione di tenere un mastermind con determinate persone per aiutarle a costruire la loro indipendenza online. Un altro modo però è quello di lavorare sul mondo del lavoro creare un nuovo paradigma lavorativo in cui si creano nuove figure da inserire all'interno del mercato che sono freelance che lavorano per più clienti e che possono gestire in modo autonomo il loro tempo. Dopodiché dopo la vostra missione c'è l'ultimo punto che è la vostra filosofia i vostri principi i principi che muoveranno i vostri passi ho fatto tanti video sui principi ve ne lascio uno qua in descrizione in cui ho spiegato esattamente quali sono i miei principi e in che modo avere dei principi aiuta il vostro percorso il punto infatti è che i principi semplificano le decisioni e ci aiutano ad avere una direzione chiara da seguire uno dei miei principi ad esempio è quello di avere clienti felici se noi partiamo da questo principio quello di avere clienti felici allora questo determinerà un sacco di nostre decisioni perché nel momento in cui io decido che uno dei miei principi di avere clienti felici beh allora tante mie decisioni cambieranno perché se io domani devo scegliere se mandare otto email promozionali o no la domanda che mi faccio è queste otto email promozionali mi aiuteranno ad avere clienti più felici se la risposta è no allora quell'azione non va fatta un altro dei miei principi è quello di prendere decisioni sul lungo termine ogni volta che prendo una decisione mi chiedo come questa decisione impatterà sul mio lavoro non in un arco da qua a un mese ma da qua a tre anni e cerco di prendere solo quelle decisioni che hanno un impatto positivo sul lungo termine un altro principio è quello della semplicità uno dei più grandi rischi per le aziende è diventare complesse e intricate ed ho troppe aziende che aumentano la propria offerta aumentano i loro prodotti aumentano i loro funnel creando una complessità incredibile ma se andate a vedere tutti i migliori business della storia sono fondamentalmente semplici tengono le cose all'essenziale e si focalizzano su pochissime cose uno dei miei principi nella vita e anche soprattutto nel business è quello di cercare di tenere le cose il più semplice possibile tengo tante consulenze anche all'interno dei mastermind con gli studenti del mastermind e la maggior parte delle volte il lavoro che cerco di fare quando mi mandano i loro progetti e cerco di analizzarli è un lavoro di riorganizzazione e semplificazione di tutto quello che hanno messo in piedi molto spesso la vera soluzione è quella di togliere cose anziché continuare ad aggiungerle anche perché se non abbiamo chiarezza noi su quello che stiamo facendo sul nostro business la verità è che non ce ne avranno nemmeno i nostri clienti non ce ne avranno nemmeno i nostri utenti quindi nel documento che vi lascerò ci sarà anche la parte in cui dovrete definire i vostri principi e vi lascerò una serie di principi i miei principi e i principi di tutte queste aziende che abbiamo visto di Amazon di Uber ovviamente per fare questo lavoro non dovreste copiare ma dovreste ascoltare voi stessi quali sono i principi che guidano i vostri comportamenti che guidano le vostre decisioni se non sentite i vostri la vostra filosofia i vostri principi non riuscirete ad applicarli sul lungo termine ok detto questo che era l'ultimo punto questi tre punti visione missione filosofia sono ciò che daranno alla vostra vita e al vostro lavoro un significato e avere un significato è l'unica vera benzina di cui abbiamo bisogno per non essere demotivati per non vivere nella malinconia perenne per non sentirsi sempre abbattuti dalla vita dalle giornate e non veder l'ora che arrivi sera per spararsi la nuova serie su Netflix però qua c'è l'ultima notizia di questo video è che questa paradossalmente come ho avuto modo di vedere sia su me stesso ma su tante persone è la parte facile la parte difficile è mettere in atto il piano questa è la parte dove spesso si vacilla perché mettere in atto il piano portare all'azione quello che stiamo facendo è la parte più ardua di tutto il processo e per riuscire a metterlo in atto io quello che mi sento di dirvi è che vi serve una visione forte che non vi faccia vacillare deve essere qualcosa che continua a darvi benzina quindi la vostra visione deve essere forte ma poi per aiutarvi in questo processo una cosa che vi tornerà molto utile è far parte di una community di persone che sta provando a portare avanti il vostro piano poi trovare dei partner barra dei mentori il mio invito con questo video è di lavorare su questa parte e poi passare alla parte in cui effettivamente proviamo a mettere in atto il piano mettere in atto il piano è sempre la cosa più difficile ma se abbiamo una visione forte se abbiamo una community che ci supporta di altre persone che stanno percorrendo lo stesso percorso e in più se abbiamo dei partner barra dei mentori che ci mostrano la via più breve per mettere in piedi questo percorso beh allora diventa tutto molto più facile e a questo riguardo io vi ricordo che in descrizione potete iscrivervi alla lista d'attesa del mio mastermind e vi avviseremo appena riapriremo le iscrizioni al di là di questo vi lascio in descrizione tutti i documenti di cui vi ho parlato in questo video io spero sinceramente che questo video vi aiuti a trovare quella che forse è la cosa più importante della nostra vita ovvero un senso di significato più profondo che dia un senso alle nostre giornate e che dia un senso anche al nostro lavoro perché il nostro lavoro che ci piacciono è una delle parti più presenti all'interno della nostra vita per questo video è tutto noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video che vediamo in un prossimo video Grazie.